Ciao! E benvenuti sulle video guide di lofaionline.it Abbiamo visto in altre guide come aprire e chiudere un conto su PayPal. Se vi interessano trovate il link nella descrizione. In questa invece, vediamo come cambiare la password. Per prima cosa, andiamo sul sito di PayPal. Possiamo raggiungerlo direttamente cliccando il link nella descrizione. Una volta sul sito, effettuiamo l'accesso, cliccando in alto a destra su Accedi. Procediamo quindi ad effettuare l'accesso inserendo mail e password. Una volta effettuato l'accesso, clicchiamo in alto a destra sul simbolo dell'ingranaggio, indicato dalla freccia. Dalla pagina che si apre, clicchiamo su Sicurezza, che vediamo indicato nell'immagine. La prima voce è Password. Sulla destra, clicchiamo su Aggiorna, come indicato dalla freccia. Ora dobbiamo inserire prima la nostra password attuale, e poi la nuova password, per due volte. Poi clicchiamo su, Modifica password come in immagine. Se tutto è andato a buon fine, ecco cambiata la nostra password di PayPal, e in questo caso vedremo un messaggio di conferma come quello nell'immagine. Infine, consigliamo di cambiare spesso le vostre password, in special modo per quei siti dove sono previste transazioni economiche. Grazie per aver seguito questa guida. E ricorda di iscriverti al nostro canale, cliccando su, Iscriviti, come vediamo nell'immagine. Sul nostro sito, lofaionline.it, trovi molte altre guide in formato classico, da leggere, sempre gratis e illustrate. Passo, dopo passo, come semplificarci la vita su internet? lofaionline.it